buongiorno vi faccio vedere le mie i miei vasi per i fiori quale userò per il matrimonio certamente i fiori saranno gli altri ma questi saranno i vasi li ho fatti dai barattoli di 400 non 400 scusate 4 litri e mezzo li ho messi la sacca sopra come vedete ho messo dei fiocchi di organza e dei fiorellini fatti da me qui ho messo fra la sacca un po di organza per dare per stringere qui così sono dentro focalizza dietro nastri ciascuno ha una storia particolare così saranno per mio tavolo va bene i fiori in un altro modo ma sempre fiori di campo con grano spicchi di grano ed era e altre cose spero che vi piaceranno se non vi piaceranno mi direte certamente che posso dire arrivederci ci vediamo al prossimo video di questo genere